Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio sulla A1 per traffico intenso rallentamenti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna per lavori fino al 28 febbraio è chiuso in direzione Bologna il tratto tra Aglio e Roncobilaccio in A11 un chilometro di coda per lavori tra Montecatini e Pistoia in direzione Firenze sulla Fipili tre chilometri di coda per lavori tra Montopoli e Ponte d'Eraest in direzione Mare fino al 28 febbraio per lavori al viadotto Stagno chiusura della carreggiata all'altezza del chilometro 76 nel ramo di Livorno su raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento a 1 di Firenze in Pruneta infine ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali catene o gomme termiche per la propria vettura. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!